Ancora una volta i lavori del civico consesso di Mistretta non si sono svolti. Infatti la seduta del pomeriggio di venerdì, che veniva da un ulteriore rimio del 28 marzo, è stata posticipata a data da destinarsi, per l'assenza questa volta del gruppo di minoranza, che ha contestato con una nota l'operato del Presidente del Consiglio, Carmelo Nucera. Nella nota i consiglieri di Guardiamo Oltre parlano di nullità della seduta del Consiglio Comunale, in quanto non notificata nei termini previsti dall'articolo 42 del regolamento. Tra i punti che si dovevano discutere, tra gli altri, quello proposto dalla stessa opposizione sulla perdita dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo Tommasa Versa. Le sedute straordinarie vanno convocate almeno tre giorni prima rispetto alla data della riunione. In questo caso la convocazione per il Consiglio di giorno 12 è stata protocollata e notificata ai consiglieri in data 9 aprile, quindi fuori tempo. Peraltro in seduta straordinaria senza rilevare l'urgenza della seduta. Pertanto tutti i punti trattati eventualmente ed approvati in quella data sarebbero stati passibili di nullità. La minoranza chiede al Segretario Comunale che la nota sia girata anche al Prefetto di Messina e all'assessorato alle autonomie locali. Intanto la maggioranza e lo stesso Presidente del Consiglio fanno quadrato e hanno deciso di non discutere i punti all'ordine del giorno, definendo la posizione della minoranza pretestuosa e che il Consiglio si è rimiato perché è giusto che le problematiche che riguardano la città siano affrontate dal Consiglio Comunale nella sua interezza. La seduta, come ho detto in Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda era perfettamente regolare. D'altra parte questa proviene da un rinvio del Consiglio Comunale del 28 marzo, anzi mi ricordo che la data è stata concordata con il gruppo di minoranza e si è tenuto conto anche delle loro disponibilità. Ho preso atto della nota fatta per venire dal gruppo di minoranza, non la condividiamo perché questo Consiglio Comunale veniva da un rinvio, quindi i consiglieri erano perfettamente a conoscenza di quello che si doveva trattare e di quali erano i punti all'ordine del giorno. Hanno sfruttato forse un cavillo che è presente nel regolamento per poter prendere tempo e rinviare gli argomenti, secondo me a danno della cittadinanza.